Sono stati ritrovati i corpi di due dei tre ragazzi dispersi da venerdì scorso dopo la piena delle fiume in Antisone in Fiuli Venezia Giulia. I corpi sono stati trovati a distanza la prima di 700 metri dal Greto e l'altra poco più lontana, intorno ai 1000 metri a circa un chilometro. In corso le operazioni per il recupero dei corpi delle vittime mentre si è ancora alla ricerca del terzo ragazzo disperso ed è presumibile che anche lui potrebbe non avercela fatta. Ricordiamo che i tre ragazzi erano stati sorpresi dalla piena del fiume in Antisone e avevano cercato di farsi scudo con i loro stessi corpi. I vigili del vuoto avevano tentato un'azione di salvataggio ma gli stessi non erano riusciti ad aggrapparsi alle fure.